Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avrete letto al titolo, questo penso che sia il video più atteso del momento, tra virgolette, e sarà appunto il video dell'estrazione del vincitore o barra vincitrice del giveaway. Il giveaway si è chiuso il 9 di febbraio, quindi venerdì, e niente, appunto, in questo video estrarremo il vincitore. Mi vedete con il telefono perché il mio computer ha avuto un piccolo problema ultimamente, si vede che ha lavorato troppo e si è preso una pausa e quindi faremo l'estrazione con il cellulare. Non cambia nulla perché è la stessa cosa, quindi vabbè, poi vi zoomo così vedrete meglio. Qui c'è già il mio video, prima di iniziare però voglio fare una premessa. Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi tantissimo per tutti quanti i commenti, tra l'altro bellissimi, bellissimi commenti. Vi ho chiesto appunto di dirmi quali video vi piacerebbe vedere sul mio canale, qualcosa per migliorare il mio canale e la grande maggioranza di chi ha partecipato al giveaway mi ha dato delle idee o comunque mi ha scritto cose molto molto belle. e sono contenta anche per i nuovi iscritti e molto molto contenta per appunto tutti i commenti perché veramente erano bellissimi. E dopo questo video, una volta girato appunto il video, inizierò a rispondere a tutte perché appunto non ho risposto a nessuno, non perché non mi andasse, ma semplicemente perché non volevo, diciamo, alterare il risultato del giveaway con anche i miei commenti di mezzo, ecco. E quindi niente, appunto dopo mi metterò a rispondere a tutte, a tutte e tutti. Vi ringrazio veramente tantissimo perché erano commenti stupendi davvero. La seconda cosa che voglio dire, lo dico in tutti quanti i video dei giveaway. Ci sono molte persone che di solito si iscrivono soltanto per il giveaway, partecipano al giveaway e dopo il giveaway si disiscrivono. Fortunatamente negli ultimi due giveaway che ho fatto questa cosa non l'ho vista tantissimo, nel senso c'è stato qualche disiscritto ma niente di che, poteva anche essere un disiscritto così random. Però ci tengo a dire anche questa volta che chiunque si disiscriverà, già posso far addirlo, dal canale, perché non ha vinto e perché si è iscritto semplicemente per partecipare, non potrà partecipare ai prossimi giveaway. Semplicemente perché mi sembra una scorrettezza veramente bruttissima, ecco, semplicemente, ma è proprio in generale, non solo per il mio canale. E niente, vabbè, detto questo, ci saranno altri giveaway, ci sarà anche probabilmente un contest fatto per i 2000 iscritti, oltre che allo speciale 2000 iscritti che sarà appunto la mia postazione creativa, la mia nuova postazione creativa ve la mostrerò tutta, però voglio farlo come speciale appunto per i 2000 iscritti, non manca tantissimo, siamo a 1775, quindi non manca tantissimo, iscrivetevi così vedrete la mia postazione creativa, no, scherzando, e quindi ci saranno tantissime altre giveaway, ci saranno anche contest, quindi non vi preoccupate che avrete tantissime altre possibilità di poter vincere i miei premi o comunque le mie creazioni, non ti spegnere. E, bene, detto questo, possiamo iniziare. Allora, questo è il mio, non ce la possiamo fare, questo è il mio video, io vado a copiare, è uscita fuori Yolanda Sweet, perfetto, non so perché, potresti conoscere, copiamo il link, ok, poi vado qui che avevo già aperto il sito con il quale estraggo i commenti, questo è un sito che praticamente inserendo il link del vostro video, caricando tutti quanti i commenti, vi carica tutti quanti i commenti, vi dice quanti i commenti ci sono e poi potete procedere all'istrazione. Allora, mi dice che ci sono stati 58 commenti univoci, quindi vuol dire che nessuno, fortunatamente, ha lasciato doppi commenti, quindi già è una grande cosa, e adesso io cliccando su questo tastino qua, aspettate che vi zoomo un attimo, invece di zoomare sul telefono, zoomiamo la videocamera, ok, come vedete questo qua appunto è il mio video, il giveaway chiuso, e appunto ci sono stati 58 commenti, io adesso devo semplicemente andare a cliccare sul pulsantino e scopriremo la vincitrice, quindi, ok, allora, la vincitrice è Chiara Chu, spero si pronunci così, è il tuo nickname, allora, mi ha scritto, haha, l'intro, i gatti hanno sta tendenza a buttare per terra le robe, eh sì, esattamente, il mio gatto assolutamente fa questo, e mi piacerebbe vedere il video sul tuo gatto, me l'avete richiesto veramente in tanti sotto a questo video, il, appunto, il tag è un nemico peloso, quindi probabilmente lo farò, vuoi tagliare il gatto? sì, perché c'è uno spezzone in cui dico che in questo video taglierò tantissimo, e anche il gatto, ma ovviamente non era niente di... ovviamente stavo scherzando, era una battuta, e poi partecipa, mi piacciono tanto, molto i tuoi video, dove fai vedere i camelli e le basi per le creazioni, quindi, ok, sono particolarmente contenta di questa cosa, allora, intanto, vabbè, avete visto chi ha vinto, facciamo così, ah, tra l'altro, ok, sì, un solo commento, perfetto, e sono contentissima che abbia vinto Chiara, perché, tra l'altro, lei è una ragazza che mi segue tantissimo, cioè, praticamente non si perde un mio video, lo so, perché li commenta tutti, cioè, ogni, ogni mio video trovate un suo commento, mi so che è veramente una persona che mi segue, mi segue da parecchio, quindi sono contentissima, perché questo giveaway, in realtà, i giveaway sono fatti per ringraziare chi mi segue, poi è ovvio che portano altri nuovi iscritti, perché c'è la condivisione del video, perché c'è chi vuole partecipare, perché c'è chi scopre il video, poi magari si fa vedere tutti, ci sono state ragazze che, per esempio, mi hanno lasciato dei commenti, dove mi dicevano, sono nuova, però ho visto alcuni tuoi video, e ho deciso di iscrivermi, quindi sono contentissima che abbia vinto lei, davvero, perché è proprio una delle persone che mi seguono di più, e quindi che mi lasciano un commento sotto ogni mio video, quindi sono contentissima che abbia vinto lei, davvero. Un'altra ragazza che mi segue tantissimo e che saluto, ci tengo tanto a volerla salutare, perché veramente mi commenta tutti i video, cioè so che ogni video che esce avrò un suo commento, quindi vuol dire che proprio interessa quello che faccio, ecco, magari non piace, perché ci possono essere cose che non piacciono, però mi segue, quindi gli interessa vedere cosa faccio, ed è Andy Lullaby, se non sbaglio a pronunciare il suo nick, ed è una ragazza dolcissima che veramente mi commenta tutti i video, mi lascia i like, eccetera, quindi un bacione a tutte e due, e niente, Chiara, tu vedrai sicuramente questo video, quindi contattami su Instagram, Facebook o anche qui su YouTube, dove ti pare, e così mi lascia il tuo indirizzo e provvederò a inviarti appunto i premi. Che altro dirvi? Niente, io ringrazio tutti gli altri che hanno partecipato, tranquilli perché veramente ci saranno altri giveaway, e vedrete che avrete la possibilità di vincere qualcos'altro, e niente, io non so che altro di lui, sono troppo troppo contenta che abbia vinto lei, davvero, nulla a togliere ai nuovi iscritti o a chi mi segue ma non commenta, perché ci sono tantissime ragazze, e lo so, che mi seguono, però non commentano assiduamente tutti i miei video, nulla a togliere a loro, però sono contenta che abbia vinto Chiara, perché, non lo so, cioè, è come un ringraziarla, ecco, e appunto questo dovrebbe essere l'idea iniziale di un giveaway, poi che porti nuovi iscritti e nuove persone ci sta. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non l'avete visto granché, ma insomma, che non siate troppo dispiaciute da non aver vinto, io vi ringrazio tantissimo per l'ennesima volta, per aver partecipato, per seguirmi, anche a chi solo lascia un like senza lasciare il commento, vi ringrazio veramente tutti, e ringrazio in particolar modo anche tutti quanti quelli che mi iscrivono in privato, tantissime ragazze che mi iscrivono e mi ringraziano per i nuovi tutorial, è per me una soddisfazione veramente molto molto grande. Niente, vi mando un bacione grande, e ci vediamo al prossimo video, ciao!